Buonasera dal Tg6, in apertura parliamo di ricostruzione con dei dati che annunciano che entro il 2025 l'ufficio speciale per la ricostruzione conta di chiudere l'ultimo cantiere. I dati sono stati resi noti oggi e nel frattempo il comune di Castel del Monte lancia anche una iniziativa. Ce ne parla Daniela Rusone. 1.250 cantieri aperti tra cratere e fuori cratere con una media di ammissibilità al contributo di 30 milioni al mese e una proiezione di 350 milioni l'anno per la ricostruzione privata. Numeri snocciolati da Paolo Esposito e dal suo ufficio speciale per la ricostruzione con buone notizie che arrivano anche per la ricostruzione pubblica. Sulla pubblica buone notizie perché in questi giorni ci sarà una CIP che assegnerà altri fondi sull'edilizia scolastica e sulla ricostruzione pubblica della cratere. La previsione è di chiudere l'ultimo cantiere entro il 2025 ma sono dati in continua evoluzione, spiega. Sì, noi questa sera sul sito web mostriamo la pagina OpenUSRC in cui cliccando la parolina target si vede che prevediamo 2022, inizi del 2023, ultima ammissione contributo, mediamente 2025, ultima chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, io dico sempre, poi bisogna andare a vedere comune percutune. Intanto a Castel del Monte, bellissimo borgo dell'Aquilano, il sindaco propone un azionariato diffuso per riportare le case ad essere abitate 365 giorni l'anno. Questo si può fare con una proposta che io farò, sto facendo ai miei cittadini, di un azionariato diffuso, cioè costituire, mettersi insieme per far utilizzare le nostre seconde case nei periodi in cui il proprietario non torna a fare turismo a Castel del Monte. Quindi nei mesi che non sono agosto ma sono ottobre, novembre e in altri periodi diamo queste case alle famiglie. Ci sono molti in Europa, in paesi europei che vengono utilizzati, specialmente in Inghilterra, la famiglia vuole vivere nel borgo, vuole essere una famiglia del residente. Si costituirà questa società dove il proprietario metterà a disposizione il proprio immobile e quindi poi questa società gestirà queste strutture, queste seconde case, dandole in affitto. Quindi sarà una normale attività commerciale e alla fine, tolto le spese, quello che rimarrà sarà anche un introito che tornerà alle famiglie, anche per pagare casomai la tassa dei rifiuti, l'energia elettrica e altre cose. Ora passiamo alla cronaca. I quattro nuclei agroalimentari forestali provinciali del Corpo Forestale dello Stato, coordinati dal Comando Regionale Abruzzo, hanno controllato in regione 15 centri ortofrutticoli, deferendo all'autorità giudiziaria il detentore e il produttore di un lotto di fragole coltivate nel Pescarese che dall'esito delle analisi superava i limiti di legge di 100 volte per uso specifico antiparassitario fungicida. I campioni di frutta prelevati dai forestali per verificare il quantitativo di prodotti fitosanitari presenti negli alimenti sono stati analizzati nei laboratori dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale di Teramo e hanno dato esiti rassicuranti. Gli altri sei campionamenti hanno fatto registrare valori molto al di sotto dei limiti massimi residui previsti dalla normativa italiana che recepisce quella europea. Il NAFA ha comunque sequestrato circa 1000 chili di frutta elevando anche 10 sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro per mancanza della tracciabilità dell'alimento e dell'indicazione di provenienza. Informazione quest'ultima obbligatoria anche sui banchi di qualsiasi mercato ortofrutticolo. L'Abruzzo può contare su 590 milioni di euro di fondi di coesione 2007-2013. Oggi in Regione Pescara sono stati illustrati tutti gli interventi che verranno realizzati. Ce ne parla Alfredo Primante. I dati, le cifre e lo stato di attuazione degli interventi destinati a promuovere l'infrastrutturazione e lo sviluppo economico dell'Abruzzo, oltre alla coesione territoriale e sociale. I consiglieri regionali del Partito Democratico, Luciano Monticelli e Camillo D'Alessandro, hanno tracciato un consuntivo di quanto speso dei fondi europei. Risorse, quelle del finanziamento europeo, ormai rimaste praticamente le uniche a poter finanziare investimenti pubblici sul territorio. 590 milioni che già sono nell'economia abruzzese hanno generato cantieri aperti e da aprire e quindi lavoro e occupazione. Quando noi vediamo un tendenziale più e aspetti macroeconomici positivi della nostra regione dipendono anche dal fatto che qui dentro si inietta economia. Ma è anche un segnale straordinario per chi è impresa e per chi vuole diventare impresa o venire investiti in Abruzzo. Qui noi abbiamo la possibilità per le future programmazioni di dimostrare alle imprese che vogliono investire in nostra regione che le risorse che abbiamo le sappiamo spendere. Ma diciamo che questa nuova amministrazione dal 2014 appena si è insediata ha avuto un rapporto forte con l'Unione Europea. Io stesso ho accompagnato più volte come Presidente di Commissione Affari Europei il Presidente D'Alfonso, il Dottore Giovanni Savini, Camilla D'Alessandro e tanti altri, per avere un colloquio stabile e duraturo affinché dai 170 in cui erano programmati la metà del 2015 si arrivasse a chiudere entro il 31 dicembre 2015 i 590 milioni in dotazione all'Abruzzo sull'FSC. Restiamo a Pescara, riqualificare e valorizzare l'area dismessa dell'ex cementificio concependo un nuovo modello culturale di recupero basato sul confronto e sulla condivisione del passato con il futuro. E' la sfida che ha lanciato il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, in occasione del sopralluogo avvenuto oggi nell'area ex cementificio di Via Raiala. La presenza del Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, del Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli, del Presidente della provincia, Antonio Di Marco e del Deputato Gianluca Fusilli, di tecnici comunali e architetti, riuniti nel programmare il recupero dell'area. E' uno dei luoghi simbolo di Pescara e dell'area metropolitana, ha detto il Presidente. Per questo motivo non possiamo solo assistere alla decadenza, ma dobbiamo riacquisire questo spazio intriso di storie e valori per la città. E' necessario avviare immediatamente un cronoprogramma, acquisire la proprietà dell'area, progettare l'intervento di riqualificazione, individuare risorse finanziarie e normative nazionali e regionali certe, e in un ultimo avviare un grande dibattito con le competenze e le bravure di Pescara per costruire insieme un modello di recupero condiviso da tutti. Ora invece parliamo di sanità, si torna a parlare di ospedali. In Regione si è svolta oggi una riunione tecnica sull'ospedale di Popoli che necessita adeguamente anche in base al nuovo piano sanitario regionale. Vediamo. Il futuro assetto del presidio sanitario di Popoli è stato al centro di un tavolo di lavoro che ha visto confrontarsi il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e il direttore generale della ASL di Pescara Armando Mancini, il deputato Antonio Castricone e il consigliere regionale Alberto Balducci. A seguito del processo di riconversione l'ospedale di Popoli risulterà costituito dalle unità di riabilitazione intensiva dedicata al trattamento specifico di postumi di patologie cardiologiche, respiratorie ed ortopediche postchirurgiche e riabilitazione nutrizionale 40 posti letto ed è l'unità post-acuzie di alta specialità per gravi cerebro-lesioni acquisite 30 posti letto. Entro il 2016 partiranno gli studi per la messa in sicurezza della struttura rispetto al rischio sismico mentre entro il 2017 si darà il via alla gara per gli interventi legati all'adeguamento alla normativa antincendio. Infine per l'adeguamento dei posti letto dedicati alle gravi cerebro-patie acquisite e a disposizione circa un milione di euro per lavori che sono stati già appaltati. Il presidente della giunta regionale D'Alfonso, dal canto suo, ha confermato la volontà di far approvare in tempi brevi una specifica delibera di giunta per ciascuno dei presidi sanitari in cui ricomprendere il cronoprogramma degli interventi necessari per la loro piena funzionalità. E di sanità poi si parla anche quando i comuni fanno ricorso al TAR soprattutto per quello che si chiama declassamento in questo caso il protagonista è il comune di Penne che dice abbiamo incaricato un legale per verificare se sul piano amministrativo potrebbero esserci profili di legittimità annidati nei decreti con i quali il commissario ad acta ha approvato il riordino della rete ospedaliera declassando di fatto l'ospedale San Massimo lo afferma Mario Semproni, sindaco di Penne che ha illustrato la delibera con la quale la giunta comunale ha incaricato lo studio legale di Tonno per analizzare, approfondire e eventualmente impugnare il decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzesa che nel merito ha previsto il declassamento da ospedale di base a ospedale di area disagiata. Torniamo a Pescara, un progetto sociale che durerà sei mesi sarà messo in campo dall'amministrazione comunale per dare un segnale anche di sicurezza in città e verrà istituito un posto fisso della polizia municipale al fianco della biglietteria dell'area di risulta il sindaco ribadisce che a Pescara si osserva un sostanziale calo dei reati in città. Vediamo Sindaco Alessandrini, i numeri dicono che a Pescara si registra un calo sostanziale dei reati eppure si parla del problema sicurezza e voi siete oggi qui per presentare alcune misure che metterete in campo proprio per il problema sicurezza fra queste anche l'istituzione di un posto fisso di polizia municipale presso le aree di risulta Facciamo una piccola premessa la paura è un sentimento dominante oggi della nostra società e qualcuno cavalca la paura, la strumentalizza perché pensa di poter lucrare un vantaggio politico in termini competitivi al netto di tutto questo però la situazione impone a chi ha responsabilità pubblica due linee di azione naturalmente la repressione e da ciò il senso del potenziamento dell'illuminazione pubblica la presenza della polizia municipale la presenza di una macchina con un lampeggiante che favorisca per esempio alle 9 il ritorno alle automobili di quanti le hanno parcheggiate per poter lavorare nelle attività del centro lavoriamo sulla presenza fissa di un posto di polizia nella biglietteria ma siamo anche consapevoli che all'attività di repressione si debba affiancare all'attività di prevenzione oggi presentiamo un progetto importante cui abbiamo lavorato con la Caritas e con l'associazione On The Road per mappare il fenomeno dei senza fissa dimora per cercare di prevenirlo per conoscere queste persone e per se possibile indirizzarsi verso strutture evitando così la vita all'aperto che però come sappiamo talvolta è una precisa scelta culturale tutto questo in un'ottica integrata perché per combattere questo senso di paura bisogna prevenire e reprimere è caos tariffe per i servizi scolastici a Chieti e a lanciare la denuncia è il Partito Democratico sentiamo genitori alle prese con il rebus delle tariffe da pagare per usufruire dei servizi scolastici ed uffici comunali che cambiano versione giorno dopo giorno il Partito Democratico di Chieti descrive una situazione caotica in città a poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico attualmente resta in vigore la delibera dell'amministrazione di primio che alza le tariffe dei servizi scolastici trasporto, menze e asili nido anche se le stesse potrebbero essere oggetto di revisione come annunciato dal Comune per non pesare troppo sulle tasche delle famiglie ma è proprio questa indecisione secondo i consiglieri comunali democratici a creare problematiche ad uffici e genitori alcuni uffici, cioè quelli del Comune dicevano di pagare la cifra dell'anno scorso mentre se andavi a teati servizi per pagare giustamente non avendo annullato la delibera rimanevano in vigore gli aumenti che sono stati fatti nel mese di maggio oggi invece la versione cambia oggi si dice di aspettare dopo le ferie che forse qualcosa cambierà ma questo è veramente inaccettabile perché si va a incidere sulle scelte delle famiglie alcune famiglie hanno deciso di non iscriverlo figli al tempo pieno perché non si potevano permettere di pagare il costo del pasto così come aumentato allora mi chiedevano se poi cambia la tariffa il giorno prima dell'entrata della scuola io posso riscrivere mio figlio al tempo pieno questo è il caos che si sta generando come chi non sta iscrivendo i figli al nido perché si è raddoppiata la tariffa quindi veramente l'amministrazione comunale va in ferie i cittadini vengono lasciati da soli senza una decisione Novità per quanto riguarda la cura del verde pubblico a Teramo l'amministrazione comunale ha presentato questa mattina nel parco fluviale del Vezzolo i nuovi mezzi a disposizione degli operatori ecologici vediamo il verde non deve essere un problema ma deve rappresentare anche l'immagine della città attraverso queste attrezzature che prima non avevamo aggiungendo anche tre nuovi operai attraverso gli LSU noi riusciremo a mantenere come avete visto stamattina il verde in maniera accettabile in particolar modo sul parco fluviale che deve diventare una risorsa e lo specchietto della città ma anche su quelle aree in piano in particolar modo i parchi gioco dove voi sapete benissimo che i bambini sono gli unici spazi che hanno a disposizione e non si poteva entrare la mattina a scaricare come voi vedete qui stanno facendo delle potature e una volta riempiti i porterini praticamente loro dovrebbero scaricare se non possono scaricare è evidente che bisogna fermarsi abbiamo iniziato l'interlocuzione con la TEM ci hanno spiegato che la mattina non potevano entrare perché c'era un'interferenza sui luoghi di lavoro e quindi un problema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro allora diciamo che ho proposto di poter metterci a disposizione un container nel nostro magazzino in via Orta Agrario questa mattina ci sarà la consegna questo ci permetterà ai nostri operati di non fermarsi perché non possono più scaricare ma scaricheranno nel container e nello stesso tempo con questa operazione semplice noi abbiamo recuperate tantissime ore lavoro che prima magari non si potevano sfruttare quindi attraverso i mezzi attraverso la concessione di questo container noi durante l'anno avremo molte ore in più a disposizione per la cura del verde con i nostri operai Ancora un appuntamento per il cartellone estivo di Pescara il 19 agosto arriva Pescara Shopping si susseguono gli eventi a Pescara in questa estate uno importante in programma il 19 agosto la notte dello shopping Assessore ci sarà anche una gradita novità perché i parcheggi saranno completamente gratuiti sì tanti appuntamenti dopo il ferragosto il 19 arriva Pescara Shopping un evento dedicato esclusivamente al commercio alla zona pedonale della città al nostro centro commerciale naturale in accordo con tutte le sigle delle associazioni di categoria che ringrazio Commercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA daremo la possibilità di in questa giornata di shopping dei parcheggi gratuiti nell'area di Risulta a partire dalle ore 17 organizzeremo dei micro eventi e daremo la possibilità nelle vie di pregio di organizzare degli eventi ai commercianti occupando il suolo in maniera gratuita e anche i diritti siae è un'occasione buona in questa estate ricca di appuntamenti percato per il maltempo che ci ha creato qualche problemi per rilanciare quelle che sono le tematiche del commercio l'incontro di ieri è servito con le associazioni di categoria per programmare anche il futuro e la stagione natalizia noi abbiamo messo a disposizione da subito 70.000 euro per le luminarie porteremo a pescare un grande evento con luci d'artista e saremo la terza città in Italia e poi per il centro commerciale naturale da subito 50.000 euro entro fine anno che concorderemo la spesa con un intervento immediato con le associazioni di categoria e con le esigenze dei commercianti stessi è importante e voi lo state facendo da tempo fare rete e lavorare in sinergia con le associazioni di categoria noi vogliamo lavorare in sinergia con le associazioni di categoria con i commercianti e con tutti quelli che hanno a cuore il bene, il progresso e il futuro di questa città lo stiamo facendo anche con il binomio eventi commercio che significa rilanciare l'attrattività della città stessa è stata una buona occasione la notte dell'Adriatico sarà una buona occasione il 15 agosto dove arriverà in città Paola Turci ed Ellen Alien quindi due eventi di grande rilievo il 20 agosto avremo Fiorella Mannoi e poi la regione ha anticipato oggi che il 4 settembre ci sarà l'apertura dell'Open Day Winter con un concerto straordinario con Goran Bregovic all'Arena del Mare insomma una stagione di grandi appuntamenti che vuole rilanciare la funzione attrattiva della città che poi significa incidere sull'assetto economico Un festival letterario dedicato alla figura di uno scrittore sceneggiatore italo-americano molto caro all'Abruzzo lui è John Fante l'appuntamento è a Torricella Peligna Rendere omaggio ad uno dei talenti più puri della letteratura mondiale è lo scrittore italo-americano John Fante è questo l'obiettivo del concorso letterario che si inserisce all'interno del festival Il Dio di Mio Padre in programma Torricella Peligna in provincia di Chieti dal 19 al 21 di agosto Torricella Peligna custodisce le radici italiane di John Fante nato a Denver nel 1909 il padre Nick muratore di Torricella come tanti nei primi del novecento era emigrato dal meridione in cerca di fortuna negli Stati Uniti la scelta del festival di dedicare un premio letterario ad un'opera prima e un autore emergente non è casuale ma ispirata al celebre personaggio fantiano di Arturo Bandini l'aspirante scrittore di origini italiane che tenta di farsi strada nella Los Angeles delle anni 30 un festival arrivato alla sua undicesima edizione che presto potrebbe essere istituzionalizzato dalla regione Abruzzo attraverso una legge regionale io non credo che siano tantissime le iniziative di questa densità di questa capacità di coinvolgimento e anche di questa capacità di immaginazione che arriva molto lontano rispetto al punto di partenza che è l'Abruzzo per questo voglio ringraziare il comune il sindaco le realtà associative che concorrono poiché questi miracoli sono il frutto di passione di competenza di dedizione e anche di attaccamento e voglio anche mettere in evidenza come questa iniziativa non si determini a New York ma a Torricella Peligna dimostrazione che non è vero che essere piccoli significa essere insignificanti quando si ha un messaggio di valore un'arte che dura da 150 anni ed è uno degli appuntamenti clou dell'estate in provincia di Teramo a Colledara dal 16 al 19 agosto torna la Sagra della Porchetta vediamo sedicesima edizione della Sagra della Porchetta a Colledara una tradizione sindaco che dura da 150 anni e che viene riproposta ogni anno nel vostro centro sì quest'anno con la sedicesima edizione riproponiamo una manifestazione che ormai è diventata un classico per il comune di Colledara dove mettiamo a disposizione la gente il nostro prodotto migliore del luogo una porchetta che rappresenta uno dei simboli culinari della nostra regione ci saranno tanti maestri della porchetta proprio in questa Sagra sì noi ogni sera avremo otto diciamo stazioni dove poter degustare il nostro prodotto tipico che rappresenta la peculiarità del nostro territorio Alberto D'Alberto uno dei maestri e porchettai che parteciperà a questa Sagra di Colledara qui rappresenta l'associazione dei maestri della porchetta perché ricordiamolo questa è un'arte cucinare preparare una buona porchetta oggi è un'arte è veramente un'arte questi porchettai di Colledara nel tempo hanno solidificato veramente e ne hanno fatta un'attività che conducono da molto tempo e che guidano molte famiglie nel nostro territorio ricordo il presidente di questa manifestazione Giampaolo Mercuri che ogni anno mette veramente a disposizione anima e cuore per realizzare questo evento nel migliore dei modi apriamo la pagina dello sport con la serie A domani per il Pescara l'appuntamento è con la Team Cup l'incontro è con il Frosinone allora il tecnico Massimo Odogi ha parlato ha fatto un'analisi dei nuovi arrivi e anche dei vari reparti ascoltiamo ma è incompleta no la squadra è completa poi c'è da migliorarla che è diverso partiamo da una da una solida base a cui riservo tutta la mia fiducia perché è il gruppo che che ci ha consentito di conquistare la serie A poi ovviamente come ogni passaggio di categoria va inserito qualche giocatore qualcuno è già stato inserito sono contentissimo di tutti quelli che sono arrivati è la prima partita ufficiale una partita importante per noi perché ovviamente ovviamente sarebbe importante passare il turno perché ovviamente ti dà morale perché perché passi il turno perché vogliamo andare avanti è inevitabile che chi è stato con me un anno è avanti ma questo è normale la normalità per i nuovi ci sarà bisogno di un pochino di tempo e poi c'è chi ce ne mette di più chi ce ne mette di meno ma questa domanda risponde solo il campo un po' di più mister l'ultimo arrivato che home potrebbe essere la partita ma lui è arrivato ieri quindi è difficile che possa partire dal primo minuto se non ce n'è proprio estremo bisogno però insomma oggi valuterò tutti quanti e se stanno se dovessero stare tutti bene ovviamente la precedenza va a chi ha iniziato con noi sappiamo quantomeno il livello di preparazione a cui è in questo momento cercherò di mandare in campo e cercherò di assicurarmi che chi va in campo quantomeno se non per forza maggiore abbia la capacità di starci comunque 90 minuti è guai se sento dire non è il Napoli la squadra contro cui dobbiamo fare i punti no anzi noi dobbiamo fare i punti contro il Napoli contro l'Inter contro il Milan perché sempre tre punti sono non è che prendi meno punti con queste qua quindi noi la nostra mentalità ci deve imporre di andare sempre in campo per cercare di vincere poi è normale che siamo in Serie A e ci sono squadre sulla carta più forti di noi noi dobbiamo smentire la carta occhi puntati anche sullo stadio adriatico perché quella di domani sarà la prima gara dopo il rifacimento del Manto Erboso Assessore Diodati fra poche ore ci sarà l'esordio stagionale del Pescara allo stadio adriatico l'amministrazione comunale ribadisce che la partita di Coppa Italia con il Frosinone si giocherà allo stadio c'è ancora qualche piccolo lavoro da completare però la struttura è pronta ma sì i lavori insomma diciamo che la buona parte dei lavori oramai è completata so che già ancora in questo momento ci sono delle squadre che stanno portando a termine gli ultimi piccoli lavori di risistemazione ma noi ci presenteremo già domani con il nuovo look del nostro stadio e domenica prossima con la prima partita in Serie A insomma tutto sarà assolutamente pronto e se ci sarà ancora qualche piccola cosa da sistemare la sistemeremo in questa settimana il campo è stato completamente rizzollato per cui voglio dire adesso qualche piccolo problema dal punto di vista estetico il campo lo presenta però già dalla prossima settimana fra una settimana e dieci giorni sarà tutto assolutamente in linea e perfetto per poter accogliere la Serie Acqua e Pescara Stadio Adriatico assessore che ospiterà anche si attende solo l'ufficialità la prima partita casalinga del Crotone che dunque giocherà all'Adriatico sì noi abbiamo un rapporto insomma abbiamo avuto comunicazione da parte dell'amministrazione comunale di Crotone che loro forse non riusciranno a concludere i lavori di sistemazione dello stadio sicuramente per la prima partita per cui insomma accoglieremo molto volentieri e ci sarà l'opportunità per i tifosi pescaresi di poter andare a vedere un'altra partita di Serie A Ora passiamo alla Lega Pro perché i sorteggi sono stati effettuati allora i calendari sono pronti per il Teramo il primo match sarà con in Lombardia contro il Lumezzane vediamo nel dettaglio quelli che saranno tutti gli incontri Partirà dallo stadio Tuglio Saleri di Lumezzane il cammino del Teramo nella prossima Lega Pro la sfida contro i Lombardi sarà la prima di 38 appuntamenti che vedranno il diavolo provare a riscattare una stagione opaca nel Teatro Reggio di Parma il sorteggio dei tre gironi e per il diavolo subito un test duro contro gli uomini di Antonio Filippini l'esordio al Borolis la settimana successiva contro il Bassano alla quarta 14 settembre primo turno infrasettimanale il diavolo se la vedrà tra le mura di casa col Modena appena retrocesso dalla Serie B mentre dopo quattro giorni la partita speciale per Zauli Ilaria Peterman al Valentino Mazzola contro il Sant'Arcangelo altro match dall'indubbio fascino all'ottava in Abruzzo arriva il Padova con i biancoscudati i veneti che stanno tentando una fannosa risalita verso palcoscenici di primo livello la settimana successiva 16 ottobre trasferta contro una delle pretendenti al primo posto il Venezia di Filippo Inzaghi altro match che sicuramente non deluderà le attese quello del 13 novembre a Riviera delle Palme per un San Benedettese Teramo già da grande pubblico la settimana dopo Biancorossi che ospitano l'Ancona e poi si recano a Reggio Emilia per sfidare i Granata della Reggiana la penultima giornata però 11 dicembre lo scontro che tutti aspettano al Tardini va in scena Parma-Teramo prima di concludere il girone in andata contro la Felalpi Salò in terra d'Abruzzo particolarità di quest'anno è il Boxing Day come in Inghilterra si gioca durante le festività natalizie il 26 e il 30 a Santo Stefano inizia il girone di ritorno con la prima giornata alla vigilia del nuovo anno la trasferta a Bassano tre turni infrasettimanali il 13 e 14 settembre il 6 e 7 dicembre e il 4 e 5 aprile altra novità sarà il turnover un girone giocherà sempre di sabato per tre mesi gli altri due di domenica poi il cambio fino alla chiusura del campionato si inizia domenica 28 agosto stagione regolare che terminerà domenica 7 maggio poi via playoff e playout sognando il salto in Serie B il Teramo è pronto a partire anche se dovrà farlo senza Stefano Amadio il centrocampista escluso anche dall'amichevole vinta a Morrodoro è destinato a fare le valigie e lasciare i biancorossi sorteggiati calendari anche per la Serie D con le abruzzesi che saranno impegnate in due diversi gironi c'è subito un derby nel raggruppamento F all'Aragona di Vasto il 4 settembre ci sarà Vastese Chieti e poi esordi interni per San Nicolò e il Pineto nel girone G invece l'Aquila debutterà al Fattori con il Monterosi e trasferta a Sansepolcro per l'Avezzano ora invece parliamo del Chieti Calcio si avvia a conclusione una querelle la Chieti Calcio potrà allenarsi a patto che ci facciano pervenire in tempo utile la richiesta e paghino le tariffe applicate a dirlo l'assessore allo sport di Chieti Antonio Viola all'esito dell'incontro che si è svolto questa mattina in comune con i rappresentanti delle tre società calcistiche che utilizzano l'impianto sportivo la Chieti Calcio la Chieti Calcio femminile e il Chieti FC Torre Alex ascoltiamo decidiamo appunto come utilizzare al meglio questa struttura atteso che ci sono quattro società che ci hanno fatto richiesta per utilizzare e poter giocare all'interno dello stadio Angelino quindi noi non avremo nessun tipo di problema sicuramente riusciremo a trovare delle soluzioni qual è lo stato di salute dell'impianto? l'impianto sicuramente bisogna fare un minimo di manutenzione al manto erboso per il resto l'impianto va bene voglio dire non ci sono grosse problematiche certo un manto erboso comunque necessita di continua manutenzione una domanda anche su quanto sta accadendo per quanto riguarda la Chieti Calcio nella conferenza stampa alla nuova società tirata in ballo il comune insomma dicendo in sostanza ci hanno messo i bastoni tra le ruote ma assolutamente no noi come amministrazione comunale vogliamo favorire la pratica sportiva a tutti i livelli la Chieti Calcio l'unico problema che c'è è che non aveva fatto per tempo la richiesta di utilizzo della struttura per cui noi non potevamo fargli entrare senza comunque un'autorizzazione ma non c'è nessuna volontà di mettere i bastoni tra le ruote a nessuno per noi siamo qui per aiutare le società sportive a fare sport il TG6 finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi grazie per la visione